Nuovo video, questo oggi dobbiamo per forza testare i giacattoli Abbiamo shoppato un bel po' di battle pass e ne abbiamo sbloccato due di tre Perché non li vogliamo provare tutti una sola volta Ovviamente E Ferre io provo qua e voglio vedere cosa succede Ok Aspetta, è la pallina da golf? No vabbè Col piccone Steph, col piccone ti metti a dare i colpi alla pallina Andiamo subito a provarli Ferre Ok Devi stare calma No non sto calma In base a come guardavo con l'inquadratura, giocando a basket e tirava più o meno in alto Quindi davvero devi fare i canestri No vabbè Te lo giuro Allora cosa scegliamo? Aspetta, basket o golf? Basket e boschetto Ok Dai, il golf non piace a nessuno qua, lo sappiamo benissimo No davvero, a me piace il golf Anche a me Anche a Ferre Anche delle partite di golf le trovo No, quello non l'hai mai fatto Una volta l'ho guardato e mi sono addormentata perché era troppo rilassante Però l'ho guardato, ok? E non è colpo mio se è troppo rilassante come sport A me piace da giocare ma non da guardare Però sì dai, in realtà è carino Sì, cioè ti rilassa talmente tanto che crolli in 0 secondi Però l'ho guardato Dillo, è noioso da guardare Non è noioso, è rilassante È in modo gentile È in modo gentile di non direi che le cose stanno bene Però mi è piaciuto guardarlo, ho tornato anche bene perché Ci interessava a tutti, guarda Ci interessava a tutti Ok, boschetto qualche cambiamento? Dimmi no No, boschetto non ci ha possono toccare fare Lo sanno anche loro Eh, non si sa mai No, lo sanno anche loro Non ci sono player perché sono tutti distratti dalle nuove location Quindi Pronta? Sì Allora, io l'ho tentato da qua Ok, vai Vabbè, troppo Aspetta Bene, se mi metti il tuo sedere in faccia Nella inquadratura non ce la faccio Aspetta, ci sono, ci sono Oh! Quattro canestro! Te l'ho detto che c'ero, Steph Non mi potevi distrarre Sono troppo più avanti di te Guarda Cavolo Secondo, Steph Tre canestri Vabbè, ormai c'è l'inquadratura, è ovvio Quattro canestri Oh, ma che è questa storia? Anche tu l'inquadratura è pure fail, Steph Ferè Ah, ce lo dice anche il chat Ce lo dice il chat Ha totalizzato tre punti da dieci metri Tutta la 21 Allora, gara Ok? Ok Gara sui metri Ok Chi vince? Aspetta, vado più lontano? Aspetta Vediamo se ci riesco Un po' più in alto Ah, è difficilissimo da qui un po' più in alto Ma ragazza, secondo me me lo dà lì l'imbalzo Una parabola deve fare Ma ci arriva, secondo te, da tutti questi metri? Perché a me non mi sembra che ci stia arrivando Devi guardare in altissimo No, Steph, è molto lontano Cioè, sto guardando in altissimo Ci arriva Allora Voglio fare dei test Ok, ce l'ho quasi Aspetta Tira mi la palla addosso No, aspetta L'ho colpita? Sì Aspetta, aspetta Te la tiro addosso Sei pronto? Vai Mettiti di fronte a me Perché non posso cambiare l'inquadratura Vai Più in basso? Ok Così Eh, va molto in alto Sì Vai Ma quindi Sì, sì Può parare un colpo di un fucile? Il pallone Sì, uno ti sta sparando E gli tiri il pallone in faccia Aspetta Prendi un fucile? No, dai, non pensi Poi, Steph Nel frattempo che fa l'animazione T'hanno già distrutto Dai, no, no, no Però è carina questa giunta Insomma Cioè, puoi interagire davvero E funziona a fare canestro Ah, vabbè Allora, facciamo questo esperimento E poi andiamo a giocare a golf, raga Però volevo capire Aspetta, più basso Aspetta Ma è bassissimo, vai Steph Tira il tiro troppo in alto Non mi sembra, arrivai No, arrivai È troppo difficile però, Steph Aspetta Tira in basso Tira in basso No, no, no Non ha l'hitbox Cioè, è impossibile Che l'avessi missato qui tante volte Ok, che sono scarso Ma c'è il limite E allora Allora, voglio provare un attimo questo Fantastico E poi Perché puoi continuare No No, la riprendo Forse, aspetta Cosa indica, allora? Non lo so Non lo so Però la sto calciando E allora Guarda cosa c'è Una frattura Dove? Di fronte a noi Perché non la vedo? Ah, la vedo adesso Ok Quindi finalmente posso provare anche questo La roccia La roccia stavo guardando Lo so L'avevo vista Puoi vedere finalmente? Vero, sei in alto? Sì Oh, sono riuscita a prenderla anch'io Prima che scadesse, Steph Sì Non capisco bene a che serve Allora Bella sta roccia Si può rompere? Sì La possiamo anche rompere A parte fare questo E sederti lì sopra Sono il capo del mondo Allora Il problema, raga È che i campi da golf Sono soltanto lì E c'è un po' troppa gente al momento Quindi Giusto un pochino Mentre il basket abbiamo provato in relax Questo posto non è proprio totalmente in relax Ci tocca Prima massacrare la gente E poi giocare a basket Bisogna Guarda C'è da dire che comunque questo taglio Probabilmente Non ne farà andare troppi Spero Magari vanno tutti al deserto Perché lo stai dicendo? Non dirlo E dai Che cavolo Scusa Ma che ci vanno tutti Vogliono vedere le location E le location vanno a vedere In ogni caso Ti dico una cosa Ok Secondo me Si può fare Una buca da 300 metri Col campo da golf Mentre col basket Tu puoi fare quei 10 15 20 metri Ma so già che qualcuno farà 151 metri Anche là Non si sa come E mi è già venuta una cosa da provare Cavolo Perché le penso dopo in ritardo Ovvero di billare un sacco verso l'alto E per fare canessolo da lontanissimo Bellissimo Perché ci ho pensato adesso Steph Steph Devi pensarle prima Allora un M16 blue Della C4 Chiunque arrivi lo faccio esplodere C'è qualcuno già col veicolo Che sta scappando Li vedo Tattico verde Ottimo Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Non stanno scappando Che faccio Non ho materiali Mi arrivano addosso Spero che anche loro Non abbiano una ceppa Esatto E secondo me È così Questo lo vado a prendere Prima che luti Ottimo Ok Arriva un sacco di gente Non ti distrarre Ne arrivano altri due dal campo Ok Da Da dove Steph? Da 210 Ma nemmeno Mentre si è fermato Quest'altro Altri due Eh vabbè Pieno di gente È lo stesso Allora ci sono Ho anche pochissimi colpi Eh quindi Pure io Infatti il problema è quello Quattro player ci sono Ok Mi converrebbe andare Con il fucile a pompa Che almeno qualcosa Sono qua eh Uh tre Gli ho fatto Steph Due ce li abbiamo a sud Seguimi 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 Volevo andare in alto No ne abbiamo due Alla sinistra Ed è un problema Perché io al momento Non riesco a fightare Ok Chest qua Dobbiamo sperare Che trovo qualcosa Ok Materiali 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 Munizioni Ti prego dammi le munizioni Del fucile a pompa No Hai munizioni piccole Eh Non lo so Io tiro quelle d'assalto No 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 Solo quelle del fucile a pompa Non ho nulla Ok Nulla di nulla E mi servirò pure legna Perché legna e mattoni O ne ho 20 10 Quindi Una terra Ok C4 dell'amico Lo sento Ok Bella Bella È una povertà Sto posto Ma totalmente Cioè vabbè Per quanto valla gente Ovviamente raga Perché poi Un pochino c'è Però E poi scappano Capito Quindi tu non ti prendi Il loro loot Perché scappano Per cosa Nostre cavolo di macchinette Se ne vanno in giro Per tutta la mappa Ci sta Ci sta Dai è normale Magari vedano tanta gente E decidono di andare Ma ci stai pensando Andiamo ai tapparco Giochi 2.0 Con le macchinette Quanto sarà divertente Io lo vedo allora Ok allora La villa Secondo me è un bel po' di loot La villa Sì non riesco a parlare È notato Eh sì lo so C'è un sacco di parole Che dico a caso Molte oggi Brutto Fucile da cazza Brutti segni questi Brutti segni Molto brutti Dici che sto peggiorando E non migliorerò mai più Esatto Per sempre Quindi dirò sempre più parole a caso Senza senso Sì ma vabbè Siamo già tutti abituati Quello è vero Su quello Sono più che d'accordo Hai iniziato così Ah che cavolo Pensavo ci fosse gente Ho fatto ancora Ma andiamo a giocare a golf Sono finiti Sì Vorrei un attimo Finire di lootare Nel senso che Se viene a romperci Le scato di qualcuno Almeno lo secchiamo Avido Cosa? Avido Perché? Perché stai pensando Solo a lootare Quando dovremmo giocare Siamo al country club Guarda è scritto qua Steph Country club Sì l'avevo già letto prima Fammi la foto Come le persone Che vanno in villeggiatura E si fanno la foto Della scritta Del posto strafigo Per Ricchi No? Mi tengo il diritto Di ignorarti No eh Quindi volevo la foto Nel country club Da Ricchi Steph No non puoi metterla Per metterla nel mio Instagram Di Fortnite Che non esiste Però lo metterò lì Capito? Sì mi fai molto ridere Grazie Prego cara Allora controlliamo i tetti Dato che avevo già scoperto Appunto che è pieno di loot Quindi ci guardiamo tutti i tetti E poi andiamo a giocare Quindi ci siamo Finalmente si prova il golf È stato un po' più faticoso Del previsto L'hai detto giusto golf? Mi hai detto col Oh 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 Eh oh Non si parla Dov'è la cesta? Allora Qua almeno ci sono tante munizioni Che sono comodo Abbiamo i passaggetti segreti segreti qua No Allora dov'è? La sento È qui Non so Secondo me è qui sopra Forse nel punto Della punta della cupola No sono caduta Qua secondo me Però ora Se azzecchi la buchi Esatto Di bucarla Quindi aspetta che Salgo di sopra Sì Sì Ok Se l'avessi fatto da sotto L'avrei bucata Bucata infatti Opla Ok Continuando di qui Tiri che c'è un continuo di tetto E quindi altro loot E poi siamo pronti Vabbè io vado Steph Dove sono le buche? Boh sì dai andiamo Questa è una buca Non c'ho più voglia Su Che cavolo Questa è una buca Quindi tu tipo fai Ma non c'è il buco Tu fai tipo così Ma non c'è il buco Quindi come faccio a sapere Se ho fatto buca? Te lo dice Ok Uh Vicinissimo Aspetta Quei piedi ce la butto Opla Opla Ma Ma Non c'è la buca Come fai? Hai ragione Cioè quello che sto dicendo Come fai a fare buca Se non c'è la buca? Non l'ho capito Cioè è un po' Un po' strana Sì raga Non ci sono le buche Ma Ma Uh No Me l'ha contata Quindi fa Sì Se la metti Le attaccate Te lo fa Ok Ok Allora Io ho fatto 5 metri Io tipo 6 Vediamo Gara Chi è meglio? Chi ne fa di meno Chi ne fa di più? No Da chi lo fa da più lontano Ah ok Ma io Se mi conta bene Anche le pendenze Che roba carina Io la sto spingendo coi piedi Steph Oh 16 metri per Steph 8 metri 16 è buono Io allora la vicino lì E poi la spingo coi piedi Sto barrando allegramente Capisci? Ah Sì Ma dai Ma gioca Seria Mi piace barare a me Nelle cose Ok vado Eh perché poi la dovrei riprendere Ma non cammina La giù Eh lo so Steph Dai ma volevo Una cimino a giocare Comunque dai abbiamo visto Che comunque questi giocattoli Funzionano Si può giocare davvero Se hai voglia Non c'è una macchina? Eh non lo so Sicuramente si Ci stiamo E se hai anche tempo Di stare fermo a giocare Perché in uno sparatutto Beh vabbè Pensa comunque Nella maità parco giochi Esatto Divertente Ti fai le sfide con gli amici Di basket e di golf Esatto Poi c'è anche la palla da spiaggia Che ancora non abbiamo provato Sì e poi raga È soltanto l'inizio E se ne aggiungessero altre? Magari anche nello shop Da comprare Dai vieni vieni Veroce 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 Vai Che bello Che bello Che bello Che bello E poi si può andare A fare anche le gare Con questo veicolo Che ancora non abbiamo fatto È carino Comunque almeno Scusa Per muoverti Nella moto Scusa 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 Non ho mica visto No Steph Dai i trattori Non si sono mai potuti guidare Ma era ovvio Muoviti che sta andando via Il veicolo Steph Sembrava un veicolo vintage Andiamo Forza E poi parla tu Che eri lì che continuavi a giocare Mi sa che moriamo ormai Fere Eh pazienza Sì dai È stato bello È stato divertente Provare i giochi No Esperimento Vai Cosa succede in acqua? Penso di morire prima Steph Quindi non lo so Vabbè io lo riesco a scoprire Vai Secondo me Affondiamo Si è più lenti Ma si va Sì Sì Molto lenti Siamo impantanati Addio Addio Ah È stato bello Almeno abbiamo fatto un esperimento Esatto Molto inutile Molto triste Ok allora raga I giocatori li abbiamo provati Devo dire Divertentini Tipo un 6 e mezzo 7 Sì Vero? Secondo me Quindi non fantastici Ma non brutti Secondo me ci stanno entrambi Manca da provare la palla Punto da pallavolo Da spiaggia Come la vogliamo chiamare Per vedere un pochettino Come funziona anche quella Però devo dire che Non vedo già l'ora Della prossima parco giochi Perché con tutte queste Scemenzine qua Di sicuro Si possono fare tante cose In ogni caso Ci fermiamo così Qua sotto come sempre Compriendo altri video Iscriviti al canale Cliccate la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao